Viviamo in un mondo pazzo, completamente pazzo, dove la violenza, la guerra, l'orrore dilagano. Uno di questi posti è molto vicino a noi, è l'Ucraina. Da un anno c'è una guerra che la sta dilaniando. È un paese vicino, non siamo noi, però sono nostri fratelli, come tutti gli altri esseri umani del mondo che soffrono, hanno bisogno del nostro aiuto. Basta pochissimo, basta un gesto d'amore, che è semplicemente un pensiero, un fermarsi e dire posso fare qualcosa? Sì, lo posso fare. Lo posso fare semplicemente donando due euro e questo farà la differenza. Potete mandare un sms o chiamare il 45588. Riaccendiamo la speranza.